Sarà il perito Caterina Del Zingaro, nominato questa mattina dal GUP Gianluca Sarandrea, a trascrivere integralmente le intercettazioni appartenenti ad un altro procedimento proveniente dalla Procura di L'Aquila, da un'indagine per corruzione nella quale alcuni indagati sotto controllo telefonico avrebbero fatto riferimento a questioni relative a Rigopiano. La trascrizione avrà inizio il prossimo 16 dicembre e andrà avanti per 60 giorni, dunque per questo l'udienza preliminare sarà aggiornata al 5 marzo 2021. Quello che per noi sembra un'eternità per la legge sono tempi giusti e dovuti. Rispettiamo questi termini sperando che poi si riesca ad accelerare un pochino e a proseguire per il meglio. Ma io penso che ogni nodo prima o poi verrà al pettine. Noi abbiamo fiducia del nostro legale, abbiamo fiducia delle sue scelte perché poi sono condivise con noi, le appoggiamo in toto e tempo al tempo. Questo è un processo che soltanto di documenti, sono 35 mila e rotti pagine, abbiamo acquisito degli importanti risultati tra cui il sequestro, tra cui l'acquisizione di queste trascrizioni che sicuramente faranno il loro ingresso nel processo e quindi riteniamo che comunque con tutti questi ostacoli stiamo veramente cercando di correre velocemente ma appunto siamo fiduciosi soprattutto che riusciremo a ottenere una giustizia anche rapida perché già il processo è una pena già per la sua stessa lunghezza, non solo per gli imputati ma anche per le parti offese. Così alla ripresa in tribunale Covid-19 permettendo saranno passati quattro anni da quel 18 gennaio 2017 quando una valanga si staccò dal Monte Siella provocando la morte di 29 persone. Sì, ci sarà il quarto Natale senza niente di concreto, ci sarà il quarto anniversario senza niente di concreto e prima o poi dovrà arrivare la giustizia. Sicuramente non si potrà fare una manifestazione come gli altri anni ma comunque un momento di preghiera o di ritrovo sicuramente ci sarà. Nell'udienza Lampo di questa mattina è stata poi depositata istanza di sequestro conservativo nei riguardi di Dincecco Paolo il quale secondo l'avvocato Romolo Reboa il funzionario della provincia di Pescara avrebbe ceduto alla moglie un mese dopo la valanga la proprietà abitativa e per questo l'avvocato di alcune parti civili ha chiesto al GUP di procedere con il sequestro degli stipendi.